Aggiornamenti di Michel Comi sulla denuncia ricevuta da Elisa Sposito, pseudo denuncia. Ovviamente vi lascio le schede qui in alto a destra per recuperare i video vecchi, dove come e dove tutto avevo inizio e abbandono le ciance dalla stessa Comi di garanzia tenerife in quella che è una villa di lusso e il tutto pagato da un famoso imprenditore a suo dire mostra il suo saluto. Ciao ragazzi come state? Come giusto che sia volevo aggiornarvi sulla situazione sulla. Sto andando fuori dalla mia villa da 200 metri quadri molto semplicemente. Eccomi qua è giusto che certe persone notino la vastità del cazzo come ne frega è veramente immenso